Un'altra cosa di poesie, signore e signori, a tutti quanti a voi un caloroso benvenuto e bentrovati nella felice Città di Milici. Grazie di essere qui. Sabato 13 luglio 2024, nella magnifica location del Palazzo dei Cavalieri di Malta, Milici, si è tenuta la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Letterario Nazionale Passi di Donne, organizzato dall'Associazione Le Donne del Borgo. Non è stata soltanto una rapida consegna dei riconoscimenti ai vincitori, scelti da una giuria qualificata, tra gli autori provenienti da tutte le regioni italiane, ma di un vero e proprio evento all'insegna della poesia e della narrazione. L'appuntamento, infatti, si è trasformato in un simposio, che hanno condiviso i loro testi con i presenti, sotto l'occhio dei giurati, che avevano stilato le varie classifiche ed assegnate riconoscimenti specifici ai più meritevoli. L'idea di fare questo premio letterario Passi di Donne nasce dal desiderio di voler celebrare la donna nella sua interezza, nelle sue particolarità, in quanto donna capace di inserirsi nel mondo e di essere il motore del mondo. La donna sicuramente è una parte essenziale ed è colei che spinge e propone sicuramente una via innovatrice per poter affrontare tutte le difficoltà che ci possono essere. È stata una sorpresa perché la partecipazione è stata intensa, ci sono state parecchie adesioni con una qualità eccellente delle opere, per cui siamo molto contenti di questo risultato. I prossimi obiettivi dell'associazione sicuramente sono quelli di proporre delle iniziative per poter prendere coscienza di quello che effettivamente sono le capacità femminili. I messaggi li ringraziamo innanzitutto perché sono stati generosi e secondo me devono sempre più approfondire questa tematica. Non è detto che si conosca fino in fondo quello che una donna può fare. No, direi che sono molto soddisfatta. Sono molto soddisfatta perché l'adesione è stata massiccia, ci sono state delle difficoltà, ma le abbiamo superate. Quindi tutto sommato credo che sia stata come prima edizione è andata benissimo. Allora è un premio appunto un premio che ha diciamo diverse sezioni, c'è la sezione poesia e lingua italiana, la sezione bernacolo, poesia e bernacolo, la sezione racconti, la sezione haicu, la sezione serviu. Per ogni sezione c'è un'apposita giuria, sono esperti, soprattutto la sezione haicu, ci tengo a dirlo, haicu e seriu, sono esperti studiosi a livello proprio conosciuti, a livello nazionale e internazionale. I giurati delle sezioni a poesia e lingua italiana, a bernacolo e della sezione racconti sono ecco docenti, ex docenti, comunque colletterati, sono tutte, le giurie sono tecniche ecco, composte da persone esperte. Sono arrivate, il premio ripeto era esteso a livello nazionale, sono arrivate poesie da tutta Italia, si sono classificate giustamente, c'è stato un podio, delle menzioni, perché sì, sono arrivate tantissime poesie, veramente tante, non immaginavamo perché essendo alla prima edizione giustamente il premio ancora ecco non è tanto diffuso, però è stato veramente un piacere, insomma siamo onorati di tanta presenza, sono presenti infatti oggi poeti che vengono da Lazio, dalla Puglia, da varie parti ecco della Sicilia, diciamo che siamo veramente soddisfatti. Il premio letterario Passi di donne, l'idea l'ho avuta io come diciamo, io tra l'altro organizzo un premio a Castelbuono, il mio paese, mi occupo delle giurie a dire il vero, ecco, sono presidente, coordinatrice delle giurie, anche lì è il premio di poesie naturalistica bandita dal museo naturalistico Francesco Minapalumbo di Castelbuono. E mi è venuta questa idea, siccome ecco da poco faccio parte dell'associazione Le donne del borgo, ho proposto alla presidente Maria Patanè proprio questo premio, dico è da tempo che ho in mente questo premio dedicato, un premio dedicato alle donne, dico sarebbe bello visto che questa associazione è composto proprio, si chiama Donne del Borgo, dico perché l'ho proposto, l'idea è venuta anche a mia figlia, devo dire, dice mamma e perché, dice non facciamo, non organizzate un premio, e l'ho proposto, la presidente dell'associazione l'ha accolto a braccia aperte e siamo qui. Allora, la poesia è bellezza, la poesia è terapia per l'anima, è cura dell'anima. Io stimolo sempre i giovani, soprattutto i giovani, a scrivere perché la scrittura aiuta tantissimo e in un mondo come il nostro, purtroppo, pieno di tante brutture, di tanti problemi, di tante angosce, di tante paure, la poesia potrebbe veramente essere un modo per diffondere bellezza, diffondere, e anche perché no, per sollevarsi un po' da queste preoccupazioni, perché è liberatoria, la poesia è liberatoria, la scrittura in genere è liberatoria. Poi, per esempio, e questo ci tengo a dirlo, la sezione dell'Aiku, per esempio, no? Aiku e Sergio, sono il genere proprio, il genere Aiku, è un genere orientale che in questo momento sta avendo, veramente si sta diffondendo in Italia, in Occidente, ma soprattutto da noi ultimamente ci sono tanti scrittori di Aiku, ma è una cosa bellissima anche tra i bambini, perché l'Aiku guarda all'essenziale, alla semplicità, no? E in un mondo come il nostro, rivolgere di nuovo l'attenzione alla semplicità, all'essenziale, all'attimo, l'attenzione proprio al momento, a guardare proprio l'universale nel particolare, è secondo me veramente una cosa molto bella, fondamentale e molto bella. Grazie. Grazie. Grazie.